Traffico in tilt con conseguente blocco in entrata e in uscita di tutti gli automezzi lungo la SP72 Regalsemi di Caltagirone. Code chilometriche a causa della sopravvenuta chiusura al transito di un tratto della statale 124 Siracusana e come dato più rilevante dell'inaspettato fermo di un'autocisterna che, non potendo bypassare una curva a gomito, si è posta di traverso. Scenario le vie Giuseppe Garibaldi della SP72 e Rosario Pitrelli del Rione Mazzone. Per circa quattro ore automobilisti su tutte le furie, carabinieri costretti a svolgere servizio di viabilità per fare defluire al meglio i mezzi dalla strettoia del ponte San Bartolomeo. E con la polizia municipale semi appiedata perché dispone di una sola pattuglia, si è registrato il caos all'ennesima potenza. Sul posto anche i vigili del fuoco che, data la pericolosità dell'autocisterna postasi di traverso, non poteva compiere alcuna manovra. Parte delle ruote posteriori erano sprofondate in una cunetta e grazie all'abilità del suo conducente sono state evitate conseguenze certamente peggiori. Si è dovuto attendere l'intervento di un autogru che è dovuto aggiungere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania per poter rimettere sulla sede stradale l'autocisterna finita di traverso. Autocisterna che trasportava l'incirca 16.000 litri di carburante rispetto i 40.000 a pieno carico.